se ci può spiegare con parole semplici insomma perché c'è anche qualcuno che è da poco connesso che cos'è il Madanakya Mahabhava Romananda is asking if you could explain to us in simple words what is Madanakya Mahabhava one is Mahabhava like you start with this bhao feeling che è un sentimento e poi ci sono i sentimenti ancora più elevati e possiamo osservare che nella vita di ogni giorno la vita a volte può essere senza sentimenti and what is the meaning of the spiritual life to increase the feeling is not to collect the information non è quello di soltanto collettare informazioni what do you think? to develop the feeling or collect on the information develop feelings information collection 20 years 30 years they do ci sono devoti che raccolgono informazioni per 20-30 anni it happens questo lo possiamo vedere succede perché questo era un nuovo soggetto per cambiare l'uno per l'altro perché per i devoti occidentali tutta questa cultura, argomenti erano una cosa tutta nuova che è stata portata in occidente e quindi hanno dovuto cambiare da un argomento, da una cultura all'altra e quindi uno può imparare tantissimi slogan sentire le stesse cose per tante volte e cercare di credere che Krishna è Dio ma nonostante tutta questa pratica questa persona delle volte ci crede delle volte non ci crede giusto? sì e ancora non credo in Krishna e questo va avanti anche per 20-30 anni di pratica e uno si ritrova poi nella posizione che ancora non crede in Krishna se quindi io ci credo realmente posso cambiare oppure no? yes se però io non voglio cambiare allora automaticamente neanche ci credo cosa significa realizzazione? cambiare me stesso migliorare i miei punti deboli gli errori che commetto perché realizzo che sbaglio e quindi cerco di migliorare lì dove sbaglio se io non lo realizzo però come posso migliorare me stesso? only to collect information realizzazione can come raccogliendo soltanto informazioni posso raggiungere delle realizzazioni? no Prabhupada Bhagavad Gita is telling last Bhagavad Gita line Prabhupada scrive nell'ultima riga della Bhagavad Gita nella spiegazione if you want to be normal take shelter of pleasure giving potenza devi prendere rifugio nella potenza del piacere perché lui ha concluso la spiegazione dell'ultimo capitolo con quest'ultima frase 20 years practice I asked to the dam what is the meaning of pleasure giving potency some old devotee come to io ho chiesto a dei devoti che praticano da 20-30 anni qual è il significato di potenza del piacere? they say the devotee who give the pleasure to Krishna e loro mi hanno risposto che potenza del piacere significa il devoto che dà piacere a Krishna not even Radha non hanno per niente menzionato Radha how I can be normal normal is good abnormal is good cos'è meglio essere normali o strani? we all are abnormal Prabhupada lui ci definisce che nel nostro stato attuale non siamo normali e lui dice che se vuoi essere normale devi prendere rifugio nella potenza del piacere honestly information gathering is not a normal person work e onestamente parlando il raccogliere informazioni non rende una persona normale who like to be leader controller power they are not normal person qualora che vediamo che magari anche in un contesto religioso vogliono comunque sia essere dei leader che mirano al potere alla fama alla distinzione non sono in realtà persone normali one normal person one bad person in love for the God they don't like to see them e coloro che sono impazziti nell'amore per Dio e che quindi sono normali non vogliono neanche vedere quest'altre personalità che mirano soltanto alla propria fama they don't like them abnormal cannot like them normal will like them what was Jesus is a normal person simple sentry person sentry person are normal normal he is not interested to gather information they are only want to live in the feelings and because the only thing they want to live in the feelings right right or not giusto Questa è la vita spirituale se noi siamo normali abbiamo dei sentimenti e quindi ci piace prenderci cura l'uno con l'altro essere gentili verso ogni entità vivente perché queste personalità sono normali, semplici e vivono nei sentimenti e quello che vogliono fare è soltanto aiutare gli altri sono gentili verso tutti gli esseri viventi non hanno falso ego loro non soffrono e in qualsiasi circostanza essi vivono anche in quell'ambiente non c'è sofferenza perché grazie alla loro presenza quella vibrazione di sofferenza non può rimanere e queste sono le persone normali che sono pieni di sentimenti che sono delle radha dasi che sono delle radha dasi è quello che vogliono fare è quello che vogliono fare è soltanto incrementare sempre di più i sentimenti e questo è il significato di essere una radha dasi cosa è che vogliono accumulare e migliorare soltanto i sentimenti non sono interessati a vedere quello che fanno gli altri vogliono soltanto vivere nei loro sentimenti they want to increase their feelings e li vogliono incrementare that is the only goal of them questo è il loro unico obiettivo that is Mahabhav and Bhav this is the difference between Bhav and Mahabhav e questa è la differenza tra Bhav e Mahabhav and Radhika is living in Madhanakya Mahabhav che Radharani vive nel Madhanakya Mahabhav that is the highest feeling one pointed where the feelings are there she want to increase the highest feeling what she wants to give she don't know she wants to give everything e questo è il sentimento più elevato in cui lei vuole donare tutto ciò che ha and this Madhanakya Mahabhav is a Madhan his name is Madhan Mohan who attracts all in verse e questo Madhanakya Mahabhav deriva da il nome Madhan Madhan significa colui che attrae tutto l'universo tutto l'universo è attratto da Dio tutto l'universo è attratto da Dio and she attracts that person who attracts all in verse però lei riesce ad attrarre colui che attrae tutto l'universo that Madhanakya Mahabhav is the meaning of that that who attracts not to the person who attracts the person who attracts who can attract all in verse quindi Madhanakya Mahabhav è presente soltanto in quella personalità che riesce ad attrarre colui che attrae tutto l'universo Siddha Chaitanya 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 Krishna Krishna say I'm your I'm learning dance from you I'm your puppet Krishna you are my teacher vediamo che Krishna dice a Radharani io sono il tuo burattino sono tu sei la mia insegnante io voglio imparare danza da te you are my teacher I dance how you say to dance to me tu sei la mia insegnante e io danzo così come tu mi dici di fare lei vuole donare tutto ciò che possiede madanakya mahabha e questo è il significato di madanakya mahabha if I don't live in the feelings how we can increase our feelings and how I can understand the madanakya mahabha without desire of higher feelings se neanche ce l'ho i sentimenti e come faccio a poter capire cos'è il madanakya mahabha se non ho desiderio di raggiungere questi tipi di sentimenti così elevati per feeling we have to be very normal per poter vivere nei sentimenti dobbiamo essere molto normali the moment we have normal we go out from the feelings nel momento in cui usciamo dalla nostra normalità diventiamo anormali strani allora perdiamo i sentimenti not as well I say small way not sorry not as small small short way I say yes very clear gurudev thank you one thing I want to say you Prabhupada Bhagavad Gita is very crystal clear Prabhupada Bhagavad Gita page 4 introduction introduction he says he come to give parampara to us new parampara new parampara what is broken and what is that parampara and what is that parampara he said to Arjuna because he is very intimate friend and friend of Krishna intimate friend parampara to Arjuna because he was intimate friend relation Krishna ha voluto dare questa parampara to Arjuna perché lui era un suo amico intimo mentre noi non abbiamo un'intimità con la nostra estateva and we after some time no 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 L'amico intimo. Intimate friend means he only 22 times says relation with whom? Relation with whom? With Krishna. So we have no relation with Krishna? We have no relation with Krishna. We are related with navigator. Navigator. You imagine if I relation with navigator what he will do? Navigator will work when I have a goal or something. I know if it's my goal that I like Krishna. I have no goal for that. The navigator cannot be a goal. The navigator cannot be the goal. We are in class, we have to talk about it in 10 minutes, because we don't need to move the world. Slowly I will, after class, talking. il navigatore può essere l'obiettivo? dite, rispondete se io amo il navigatore mi darà qualcosa e questo quindi Prabhupada dà la parampara or Krishna is goal chi è l'obiettivo? la parampara o Krishna? quindi se io fisso il goal Krishna allora il navigatore funzionerà e mi porterà l'obiettivo prendete l'esempio di Gesù lui ha fissato il suo obiettivo suo padre giusto? e allora poi ha detto ti posso indirizzare per questo obiettivo ti posso far vedere la via per raggiungerlo questo Prabhupada dà la parampara e lui ha detto io non mi piace senza un film di arrivare vieni da questo posto io non mi piace io non mi piace in la foto non mi piace in la foto impersonale e non potete imparare niente ve lo dico l'amore direi io direi che non mi piace non mi piace imparare niente sono non mi piace non mi piace vedere se avete un desiderio dovete venire nella foto e sentire se voi siete interessati dovete venire nella camera dovete amare Krishna dovete fissare questo obiettivo come obiettivo Krishna e questo Prabhupada viene a dire e dice di amarlo 22 volte lo dice in questa introduzione che diceva prima della Bhagavad Gita pagina 4 and for that I have to fix myself my salub and perfection in my salub indeed this is the way of sadhana to fix myself how I can fix Krishna if I have no spiritual soul consciousness and what is sadhana cos'è sadhana la pratica outer sadhana to change my clothes and put the country is not sadhana non è questa cosa esterna del vestito il tila cadulasi sadhana to change my bodily identification and false ego in my self a cambiare a cambiare la mia identificazione col corpo il mio falso ego con la mia forma spirituale identificazione spirituale and to know the soul sarup e conoscere la forma dell'anima and develop perfection for that e sviluppare la perfezione per questo that's a svarupasiti without this perfection life not move right or not no move this is the page full this is page 4 introduction 30 years 20 years I practice if I don't do this I don't start my spiritual life if you believe Prabhupada I believe and I see that and I understand this this is the way of normal this is the beginning and last page and when we do this I go in Assisi and I see there is a one meditation hall why meditation hall what is meditation needs to meditate this has to be in meditation this has to be meditated in my spiritual sarup meditated in Krishna in my sarup always we have to meditate to Krishna my plastic body will not meditate why never meditate till I know reach to this spiritual body I cannot move for the spiritual life I move from this body material I go into the spiritual I cannot start la vita spiritual so many people are listening yeah mi sentite si ti sentiamo se ti tieni il microfono più vicino ancora meglio ok grazie Rasa prego religious life we can do potete possiamo fare vita religiosa we are muslim we become christian we are christian we become hindu siamo musulmani diventiamo cristiani siamo cristiani diventiamo hinduisti and I was jewish I become hindu this is can't possible but spiritual life not possible ma non è possibile fare vita spiritual I can be religious but not spiritual posso essere religioso ma non spiritual 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 madanakya mahabhab only a spiritual person can realize and understand who live in the feeling and who want to develop this feeling can can be A and feeling can be and feeling can be for C and eat one but he starts living in the feeling that is spiritual life I sentimenti possono essere di tipo A B C però l'importante è avere un sentimento va bene altre domande thank you guru dev very clear like always thank you ramalanda dice grazie guru dev molto chiaro come sempre altre domande oh io per riempire posso farne altre ma sarebbe bello che ci fosse qualcun altro che si fa avanti che abbiamo parlato della forma spirituale scusa ripeti si ripeti ok quindi la forma spirituale sono i sentimenti o è molto di più ci puoi spiegare Brudeva la forma spirituale sono i sentimenti molto molto di più fra pria she's asking if the spiritual form are feelings or more or what what is the spiritual feeling is what i sentimenti cosa sono mother feel his son la madre sente suo figlio i ho fatto l'esempio di sanatani honestly this is not an altar she has there is center is gopal gopal right or not right this is not a traditional altar this is tradition this is oh but she is mad for the his baby gopal he's out of tradition because he is over than tradition her home all sannyasi want to come they request to come to visit mama they feel proud to visit the mama house because for her is the highest is her love that is real tradition higher tradition than normal tradition take the example of Jesus Jewish time is coming from Jewish family he broke the Jewish rule and he changed his love in love he changed all the system of Jewish patterns what is tradition is religion and spiritual is love that is a feeling because the feeling is so intense he mad become mad for his child he don't want to see out of the child anything that's a spiritual who break all the tradition and who put the love tradition is higher that's enough right one thing friend feelings friend for friend feelings and one is a light not like a mother but beloved and lover more close feeling how much intense you want to give your feeling lover's intense feeling is the highest second is a mother intensity of feelings and love no comprehend non c'è da comparare yeah is religion is out of religion is a conclusion of all religious principles this moves like this questa è la conclusione di tutti i principi religiosi l'ultima scena di Gesù chi era lì the most intimate friends and lover gli amici più intimi e gli amanti madre marie maria 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 madre maria e gli amici chetan chatamrit read mahaprabhu is telling what say è uguale Prabhupada ha dato ancora più misericordia ha scritto altre due edizioni per me per capire anche passivo è lì e attivo è attivo non siamo né nella relazione passiva né in quella attiva chiaro? chiaro? siamo da nessuna parte se pratichiamo solo religione siamo da nessuna parte scusate se ve lo dico scusate se ve lo dico quello che ho realizzato grazie alla misericordia di Prabhupada e di Gesù non sono un pandit e un filosofo e un personale è la verità un giorno dobbiamo arrivare a questo punto se c'è il desiderio per la spiritualità questa vita o nella prossima e sono orgoglioso di una persona che sta venendo lì veramente è veramente una grande personalità una persona saggia non lo mancate e andate visitate e cercate di ascoltare una persona e un'enlightened una persona illuminata una persona santa ce l'hai mandato tu Gurudeva you sent to us Gurudeva no I'm nothing I never travel any place anything but you can imagine I like to listen his feelings and share we listen his feelings we don't we not go for Tattavichara Tattavichara what you say and we go for Rasa 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 to understand how rust is there how much juice is there you know Rasa what is many Rasa 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 is Krishna Rasa is Krishna Krishna feeling is Mahabhava highest feeling and when Mahabhava and Rasa come together that is Ananda there is no out of this Ananda Tattavichara Mahabhava and Rasa mixed together together come that give Ananda Soltanto Rasa and Mahabhava and Rasa good G Grazie. Avete altre domande? Ci sono altre domande? Sì, volevo chiedere se Gurudeva poteva dire qualcosa su un verso del Rada Rasa Sudanidi 136, dove viene detto che aveva tante qualità. Rada Rasa Sudanidi 136, ho capito. Grazie. Allora tu leggi in italiano e poi non leggiamo in inglese. Va bene. Va bene. Vai. Vai. Arrivo, arrivo. Ecco. Tutte le glorie a Shirada, che è lo zenith del Rasa, e da cui ogni membra e da ogni membra di lei fluisce un Rasa. Nettario, che è l'unico oceano che è ricolmo d'amore, che è l'unico oceano di nettere di eleganza. E' un'oceano che contiene l'essenza della compassione materna, che è il luogo di nascita del regno, di una sempre nuova dolcezza giovanile appena sbocciata, e che è un grande oceano. Se voleva dire qualcosa, leggiamo in inglese. Allora. Ok. All glories to Shri... Loud, loud. All glories to Shri Radha, che è la zenith del Rasa. Chi può dare la felicità massima? Rasa significa Krishna. Chi può dare la felicità massima a Krishna? Chi è questo? Rada. Madanaka Mahabhava. Solo lei può essere Madanaka Mahabhava. E senza chiedere niente in cambio. Io non voglio andare nei dettagli. Però se andiamo nei dettagli allora possiamo vedere come nessuno è capace di essere incondizionato come lei. Un uomo va a incontrarsi con un'altra donna. Allora c'è fuoco nella casa. E questo Krishna. E questo Krishna. Lui ha così tante gopi, così tante sacchi che lo vogliono acchiappare durante la rasa Lila e altri Lila. E allora una ragazza va da Radarani e gli dice Krishna è proprio un mascalzone. Lui ruba è un donnaiolo. E allora lei dice lui può fare tutto ma lui è mio. E allora il mio ego dirà lui è pazzo io lo lascio invece lei dice no lui è mio e io mi espando in tante forme per dargli piacere. Le altre gopi non sono altre, io mi espando in loro. Le sacchi non sono altre, sono io che mi espando in loro per dare felicità a lui, a Krishna. Lui è mio. Lui è mio. Qualsiasi cosa buona o cattiva lui è mio. Questo è amore miei cari. Questi lo chiamano Madanakya Mahabav. All glories to Sri Radha, who is the zenith of Rasa, from whose every limb blazing necterian Rasa is flowing. All limbs are flowing in nectar Rasa. So the creator who creates whole universe, who attracts whole universe, when he sees the feeling of love, he does the many crazy things that she rejects me but she is not ready to reject me. And then the creator, who has created the whole universe, when he sees the feelings and love of Rasa, he does everything to reject himself but she cannot reject it. That's it. That's it. Who gives everything. Everything, anything is there for Rasa, for Krishna. Rasa is Rasa, Vaisya is Krishna. For Krishna only if she has nothing else. E lei fa tutto per Rasa, per Krishna, perché Krishna è Rasa Vaishya. 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 dice Rasa Vichad. How you will become juicy and ananda without this natina? No way. All glories to Sri Radha who is the zenith of Rasa from whose every limb blazing nectirian Rasa is flowing who is the only ocean that is filled with love who is the only nectar ocean of elegance who is an ocean containing the essence of motherly compassion who is the birthplace of a kingdom of newly entering youthful sweetness and who is a great ocean of mysteries this mystery great ocean of mystery that you research that is the research in our life research of feeling of feeling how much she has a feeling that research take a long long way but it's a slow and study ten ten Bhagavad who is the I sentimenti di Radarani, però come dice nella Bhagavad Gita 10.10, questo processo è lento, ma continuo, costante. Perché sono fisso e cerco di ispirare a tutti a leggere solo due libri, Radarasa Sudanidi di Anandas Babaji e il Bilab Kusumanjali di Anandas Babaji. E tutte le scritture, se non vi verranno chiare, ditemelo voi. Quando qualcuno fa un dottorato, un dottore, allora il livello della scuola base e il livello delle superiori, diciamo, tutto diventerà chiaro. Questo libro è un libro da dottorato, questi due libri. Però allora uno si chiede, ma io come farò a fare il dottorato se ancora neanche ho finito l'elementare? E il Gurudev dice, dimenticatevi di questo. Andate subito al dottorato. E se le cose non vi diventeranno chiare facendo e leggendo questo dottorato, allora ditemi a me. E voi capirete ancora di più la Bhagavad Gita di Shula Prabhupada, la Chetanya Ceritambrita, e piangerete per queste parole, quanto sono meravigliose. What you want to know, Chetanya Ceritambrita, Shula Prabhupada, Shula Prabhupada, and Bhagavad Gita, these three things, all is there. Questi tre soggetti, la Bhagavad Gita, Shula Prabhupada, Shula Prabhupada, Shula Prabhupada, and Chetanya Ceritambrita, sono tutti racchiuse in questi altri due libri. And this is all. Bhagavad Gita is to know your soul. e la Bhagavad Gita ci aiuta a conoscere la nostra anima e Krishna stesso dice sarva dharmana partagge e perché lo dice? lui dice ci sono due dharma uno è il dharma il dovere del corpo la famiglia la società il dovere della società e uno è il jayva dharma cosa fare allora? questa è la mia domanda a voi quando tu conosci il jayva dharma allora lasci il namitik dharma e che noi ci dimentichiamo di ricordarci del jayva dharma del dovere dell'anima Krishna dice telling to Arjuna to fight when he was in body di identifiche Krishna dice nella Bhagavad Gita ad Arjuna di combattere quando Arjuna era nella coscienza del corpo and he listened Krishna and he realized that he is a soul he said leave other dharma what I talk and he is a soul and he is a soul and he understands that he has to leave all the other dover and go to what he says Krishna mam ekam mam ekam qual è il significato di mam ekam ma è il mio unico e chi è l'unico il suo unico di Krishna Krishna unica di Krishna e chi è l'unica di Krishna Krishna no e allora la mamma nel sentimento di Vazzaglia lui è Gopala e for Radhika è tutto per Krishna quali sono i tuoi sentimenti in base a quello che sono i tuoi sentimenti tu vedrai quell'uno o una e se tu non hai sentimenti lo vedrai come Dio Amazon io so Sanatani lei è la mia mamma lei è la mia mamma lei non ha tanti soldi ma ogni mese c'ha dieci grandi devoti che vanno da lei Mahatma e come fa lei come fa 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 Gopala gioca nella sua casa tutti i libri sono pieni di soldi Lei quando apre le pagine i soldi vengono fuori. Chi è che dà tutti questi soldi? Gopal! L'ultima volta che sono stato là c'erano cento persone. Lei ha la cucina più piccola che io abbia mai visto eppure un sacco di persone mangiavano a casa sua tre volte al giorno. E fino a mezzanotte io non dormevo. Tutti si sedevano nella mia camera e la mia camera era piena. E di nuovo alle cinque del mattino la casa era tutta piena. E allora Gurudev dice io allora non viaggerò mai più perché non voglio dare questo peso alla mamma. Questo è solo amore. E ci sono i sentimenti, il rasa e la nanda. Questo è il mamma sanattani. Vedete? Tutti vedete? Grazie una piccola piccola piccola. Grazie una piccola picoltola. Grazie un piccolò. Parli. Grazie. vedete anche io sono Gopal perché lei vede il Gopal universale lei vede me come il suo Gopal questa è la visione divina this is the because of the turning she is living in Giambo to you why not make big picture rather challenge and her mamma is also very motherly love she is a lover of the Jesus right motherly love she gives she loves Gopal she loves Gopal and her mother also loves me very much I miss you give me some love you see Radhika is every day going to mother Yashoda house ma if I miss some love so that love like her daughter if I miss love give to me Radhika they exchange only feeling and love loro si si scambiano amore a vicenda perché non c'è niente grazie thank you thank you ratti ratti govinda 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 ratti 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 govinda 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 govinda